Cari amici, cari colleghi, buongiorno, sono qui a invitarvi al decimo corso di alta formazione in terapia del dolore che si terrà in maniera virtuale quest'anno dal 4 al 6 marzo. Noi pensavamo di poter fare questo convegno in presenza, non è possibile, ma comunque si svolgerà in tre giorni, saranno trattate tutte le tematiche inerenti al binomio dolore e covid, saranno trattati aspetti biopsicosociali con un approfondimento in particolare sulle manifestazioni fenotipiche e neuropsichiatriche correrate al dolore e poi si parlerà come sempre di ricerca di dolore oncologico e di tecniche mininvasive. Anche quest'anno abbiamo a nostro fianco tutte le società scientifiche italiane, mi riferisco alla Siarti, alla CICP, all'Aisli, alla CIPAD e quindi io vi invito veramente a entrare con me in questo congresso che non sarà un solito webinar, sarà un vero e proprio congresso in edizione virtuale e a seguire il sito www.partenos.it in cui vedrete tutte le tappe di avvicinamento al convegno.